Salve a tutti i ragazzi, qua è il mio primo video e praticamente sono con un mio amico su Fortnite allora facciamo una battaglia reale incrociamo le dita e speriamo che andrà tutto bene altrimenti non saprei ecco qua se volete far caricare una partita ci sta a tre anni e ti parevo nel frattempo faccio qualche barzelletta allora uno di peratums no e facciamo una allora due ladri vanno a rubare in un campo di grano solo che il contadino li vede allora i ladri scappano con un sacco pieno di chicchi di mais solo che due chicchi gli cadono allora un ladro dice l'altro vabbè prima ci dividiamo questi nel sacco gli altri due li prendiamo dopo allora e vanno scavalcano la recensione e la recensione porta l'inzietta del cimitero e allora si sono divisi i chicchi di mais e il custode del cimitero sentiva uno a te e uno a me uno a te e uno a me uno a te e uno a me e allora e allora e questo fa il diavolo c'è che si sta scambiando le anime allora dalla paura corre in paese e e gli va in un bar e fa qua chi è il più grosso arriva uno sogno io o più grosso qua allora e questo gli fa allora vengo con me al cimitero arriva uno al cimitero e sentono uno io e uno tu uno io e uno tu prende il custode e gli fa vedi questo è il diavolo che si sta scambiando le anime poi quando finiscono di contare un lato gli ricorda dai andiamo a prendere gli altri due che sono all'entrata all'entrata c'erano il custode e quello grosso e quindi loro gli sembravano le anime e se ne sono scappate le gambe levate quando in realtà vogliono prendere solo due checchi di mais e essere conclusa sì vabbè Giuseppe mi girano ancora di più guardate il cuore sì innanzitutto Grazie a tutti Allora Praticamente quello che ci succede è Quando non vogliamo gli amici ci arrivano a flotte Quando ne vogliamo non ci arrivano Oh no, già vorrei un amico No, si vuole da via c'è la doccia Allora 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 E gli amici ci sono quando non li vogliamo E io l'avevo detto L'avevo detto Ma non male che avevo un medikit Addio Giuseppe Ma quello ha ancora più vite Quasi Dammi sta arma Epica Oh Tutto Alla youtuber Cosa Ma cosa sembra Vabbè Non fa niente Troverso Facciamo un'altra Magari 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 Per maledizione No 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 Ai 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 aia Ai aia Ai aia Ai aia Ora ora mi ero curato Ai aia Persona di merda Che esistono nel mondo Cosa è di questo Giuseppe Bravo All'eroe Molto stanno Non si può No No Adio Ebro 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 Dammele Vabbè Però non fa niente Si Schifo Di persona Madò Mi sembra un amico Giuseppe E poi Non si dice il nome Del proprio amico Però Cavolo bro E cioè Raga Nel nome Forse C'è scritto Non ci vuole niente Capirlo Allora Allora Eccolo Giuseppe Grazie Grazie intanto Per il pompa epico L'ho mi dato Ti do un favore Anzi Provo L'ospra Sogno Allora Allora Oddio Allora Raga E per ora Siamo Qua Allora Raga Se sai Che Quasi Quasi Io Rigo Alla Mio Amico Io Sto Aperta Anzi No Facciamo Altra Cosa Su Dio Allora Ragazzi Andiamo a prendere Allora Raga Qua c'è Un problema Vieni 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 Ok Ah si Tu me l'ho dato In un momento No Ma io chissà Mazz No Non ci posso Credere In un momento Di pace Ami Giuseppe Ci ho lasciato Io solo Ti odio Giuseppe Non credo Più Le Fa Quanto Mi fa Bene Dov'è Con la pistola Tattica Che sono Bravissimo No Veramente Io con i pompe Sono bravo Giuseppe No Ecco e ci vediamo tra un po ma perchè senti tipo allora allora quella c'è la mia macchina forse nel 2050 questa marca le dovrebbero fare nella vita reale se no non è la cosa più bella del mondo ma poi quando hanno fatto la Lamborghini su Forse faceva schifo non era una Lamborghini madonna mi hanno lasciato si spero ancora anche io privato sono sogno se non sapete io sono siciliano eh mannaggia me li trovo così no pompa 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 ma problema per Gabriele oh mannaggia uno dopo l'altro è il piano fu oh mannaggia me li trovo che è frio si ma la gallina c'è ma sto serio no ma sto morendo no raga non ci posso credere che devo morire così cioè io non voglio morire così sono troppo giovane per morire si è fermata? non si è fermata ho 38 di vita giusto giusto ah vatten di cura procurami procurami non ci posso credere giusto giusto questo mi deve capitare ora mi prendo un medikit e faccio una strage dicapace no faccio mostrare e vadovi allora non mi cuoce di bando o se no che trovo un medikit cioè io mi prendo ho lo spruzzino no ma spruzzini pesce adesso allora e mannaggia ma no mi sono curato appena ma no dai no dentro la tempesta pure no 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 5 e niente posizione finale numero 4 e c'è stato un problema però alla prossima con calma con c'è premura sai e